Più che continuare riprendo, un attimo, un attimo, un attimo, scusatevi. Vorrei ribadire ai colleghi della Lega che sono state salvate 19.000 vite umane e che noi non baratteremo mai un punto percentuale alle elezioni con 19.000 morti. Noi non baratteremo mai 19.000 morti con un punto percentuale alle elezioni. Questo lo fate voi. L'Italia è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire sicurezza, che ha l'obbligo di garantire l'accoglienza, che ha l'obbligo di rispettare i trattati internazionali e noi non faremo morire le persone in mare per 500.000 voti in più della Lega. Questo lo dovete ricordare perché noi siamo un grande paese. Ci faremo carico della sicurezza dei nostri cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa. Entrambe le cose. Se voi volete la sicurezza e volete i morti, sappiate che noi vogliamo la sicurezza e vogliamo i vivi. Questa è la differenza tra una grande democrazia occidentale e la Repubblica delle Banane. Colleghi, avete manifestato il vostro dissenso. Ministro, si rivolga all'Aula, per favore. Non si rivolga a un gruppo specifico. Colleghi, sono parte dell'Aula, quindi mi rivolgo anche a loro. Si rivolga all'Aula, Ministro. E siccome teniamo alle vite umane, ci mettiamo un po' di passione quando parliamo dei vivi e non parliamo dei morti.